ciao a tutti nel video di oggi vi mostro come profumare casa in modo naturale utilizzando frutti e spezie che ricordano l'autunno è possibile ovviamente personalizzare gli ingredienti in base stagioni e rendere quindi le profumazioni diverse di mese in mese prepararlo è molto semplice e veloce ma andiamo subito a vedere come fare vado a mettere in un pentolino due fette di arancia due fette di mela una stecca di cannella un cucchiaino di chiodi di garofano e un baccello di vaniglia se ce l'avete altrimenti utilizzate la roma come me ma andrà via molto velocemente ed infine verso due tazze di acqua ora non resta che accendere il fuoco e lasciare bollire tutta la frutta e le spezie nel pentolino si sprigionerà un profumo davvero favoloso e buonissimo ogni volta che finisce l'acqua si può riempire di nuovo il pentolino e farlo bollire ancora questo per tutto l'arco della giornata e con questo è tutto ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video un bacio grande e a prestissimo ciao 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 ciao